Una partita vincente, un pareggio alla fine che non serve né al Brescia né al Verona. Sì, beh direi che è stata una partita bellissima, secondo me chi è venuto a vedere questa partita è rimasto felicemente sorpreso del livello del calcio femminile per la qualità e l'intensità. Certo, vincere sarebbe stato meglio, però insomma oggi credo che il pareggio sia il risultato giusto visto quello che si è visto in campo. Una Torres che non perde colpi, è veramente difficile quest'anno stare dietro alla corazzata sarda? Beh, la Torres ha dimostrato di essere la migliore fino a questo punto perché non ha mai perso negli scontri diretti comunque ha sempre vinto o pareggiato, quindi bisogna rendere onore a loro che in questo momento sono le più brave, quindi giustamente hanno quella posizione in classifica ma era anche normale, io credo che loro sono partiti con i favori del pronostico anche perché sono una squadra che ha giocatrici di grandissima esperienza internazionale giocatrici brave, di livello e sicuramente in quasi tutti i ruoli hanno giocatrici molto brave quindi era normale. Noi tre, Tavagnacco, Verona e Brescia, cerchiamo di rendergli difficile la vita Mister, è un pareggio che non serve né al Verona né al Brescia, è un Verona però che ai punti avrebbe strameritato di vincere anche se a volte chi sbaglia paga Sì, il pareggio serve solamente al Brescia, certamente non serve a noi ed è un peccato che la partita sia finita così per quello che si è visto in campo perché credo che se c'era una squadra che meritava di vincere questa era la nostra. Dopo però purtroppo, ripeto, in campo non ci sono solo le ragazze come sta succedendo oramai spesso ci sono anche gli arbitri e in questo frangente ne stanno combinando una per colore. Sono dispiaciuto di questo perché lavoriamo tanto, lavoriamo bene, giochiamo anche un calcio piacevole, è vero sbagliamo anche tanti gol, però davanti a certe decisioni si raddrizzano i capelli e qui mi fermo perché non voglio andare oltre. Un Verona che mercoledì sarà subito in campo, arriva questo Napoli, tornato alla vittoria insomma si può ancora sperare di inserirsi lì assieme alle altre squadre di vertice? Adesso non voglio più guardare la classifica, adesso noi dobbiamo giocare, vincere e cercare di ottenere il massimo ogni partita. Ripeto, è un periodo che giochiamo bene, è un periodo che purtroppo prendiamo troppo poco per quello che meritiamo. Speriamo di rifarci mercoledì con una bella vittoria e soprattutto anche con una bella prestazione come stiamo facendo ultimamente. Melania, ti abbiamo vista arrabbiatissima nel finale di partita, hai beccato anche una munizione perché sei andata da guardaline. Sì, ci sta, fa parte del gioco perché purtroppo vedere delle terne così che influiscono su una partita bella perché comunque è stata giocata bene da entrambe le squadre dispiace, dispiace e resta rammarico che purtroppo incide sul risultato della partita. Una partita vincente, voi avete sbagliato molto, grandi parate della Penso, un 2 a 2 che vi va molto, molto stretto. Sì, sicuramente a noi va stretto perché comunque se vogliamo rincorrere il secondo posto dovevamo portare a casa questa partita. Purtroppo, ripeto, resta rammarico di un pareggio così, di una partita andata così perché le occasioni le abbiamo avuto, le abbiamo sprecate e purtroppo c'è stato quel rigore maledetto per loro e la partita è andata così, il pareggio ci sta molto, molto stretto a noi perché comunque per la partita che è stata penso che la vittoria la potevamo meritare. Allora Federica, intanto raccontaci quel fallo da rigore che ha riportato in vantaggio il Brescia. Ma io arrivavo di corsa da un contropiede, mi sono trovata dentro l'area, forse un contatto involontario, non sicuramente per far fallo da rigore. Poi l'arbitro ha visto un rigore e beh, accettiamo tutto. Mercoledì arriva il Napoli, terza partita casalinga consecutiva, a questo punto è meglio non guardare la classifica e prendersi i punti. Sì, adesso bisogna solo andare avanti e giocare e sicuramente i punti sono importanti in ogni caso. La partita di oggi era importante per noi per risalire in classifica, non è stato così, ma comunque è il campionato ancora lungo e vediamo i risultati anche delle altre squadre.